Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Se siete appassionati di alta fedeltà nella riproduzione audio, come il sottoscritto, non potete non sapere o avere la curiosità di conoscere quanto accadde nel lontano ma favoloso 1948, l'anno che possiamo considerare come il vero inizio della nostra passione. Tutto comincia nel mese di luglio, in realtà addirittura qualche giorno prima, come ascolterete a breve, quando la prestigiosa rivista americana Audio Engineering, che già esce da più di un anno, porta all'attenzione dei suoi colti lettori due importantissime notizie. La prima la spara addirittura in copertina, dove si vede chiaramente Jack Mullin, recording engineer della ABC, operare su due luccicanti registratori a nastro della sconosciuta Ampex. Sono così nuovi che non hanno ancora né un brevetto registrato né una sigla di riferimento. Questa è la loro prima immagine mentre sono all'opera. Qualche mese dopo saranno ribattezzati nella brochure dalla Ampex come Model 200A. La seconda notizia la si scopre sfogliando le pagine interne dello stesso numero. Riguarda il prossimo lancio dalla Columbia di un nuovo disco in vinile a 33 giri e un terzo, che finalmente possa portare l'alta fedeltà anche in ambito domestico a costi accettabili. Manca nell'articolo un riferimento diretto a quello che è accaduto il 21 giugno nell'annuale convention per i dealer, tenuta dalla stessa Columbia ad Atlantic City, ampiamente anticipata dai rumors di Billboard. Ma partiamo dalla Ampex. Esattamente dal 25 aprile di quello stesso 1948, l'American Broadcasting Company aveva iniziato a fare uso dei nastri magnetici per registrare e riprodurre simultaneamente tutte le 18 ore delle proprie trasmissioni radiofoniche giornaliere. In questo modo, con una sola ora di ritardo tra registrazione e riproduzione, la ABC riusciva a trasmettere in tutto il paese rispettando il fuso orario locale. I primi esperimenti di registrazione, la ABC li aveva in realtà avviati già nell'agosto del 1947, servendosi di un magnetofono tedesco ereditato dalla Seconda Guerra Mondiale. Tecnologia, quella della registrazione sul nastro, sconosciuta in America prima del 1944, ad importarla nel suo paese era stato lo stesso Mullin. Quando era ancora soldato dei corpi di comunicazione dell'esercito americano, Mullin la scopre sul campo, svelando il mistero di come facciano le radio tedesche a trasmettere ininterrottamente 24 ore al giorno, spesso replicando gli stessi concerti. Il magnetofono era allora una tecnologia top secret per i nazisti. La necessità di registrazione ed editing si rende evidente per la ABC con la crescita di popolarità delle prime trasmissioni del famoso crooner Bing Crosby, inizialmente obbligato a replicare il suo show, trasmesso da Chicago, per coprire i diversi fusi orari della West e della East Coast. L'editing su disco dei 30 minuti trasmessi a fronte dei 60 registrati non è pratico e comporta un progressivo decadimento di qualità ad ogni nuovo dubbing. Ancora prima dell'inizio delle trasmissioni di Crosby, ed esattamente nel 1945, la ABC aveva messo a disposizione di varie aziende le specifiche tecniche per la realizzazione di un sistema di registrazione ed editing professionale a nastro. Quello del magnetofono, importato dalla Germania, era ancora in carta e non garantiva gli elevati standard di qualità delle trasmissioni radiofoniche americane. Incredibilmente era stata una piccola azienda, nata appena un anno prima, quella ai cui i prodotti sembravano rispondere meglio ai dettami tecnici forniti dalla ABC. Fondata nel 1944 dall'emigrato russo Alexander Michael Ponyatov, la Ampex deriva il nome dalle iniziali del suo fondatore, AMP, aggiunte del suffisso EX, che sta per Excellence, Eccellenza. È grazie a questa eccellenza che nel marzo del 1948 la ABC sostituisce i magnetofoni tedeschi con i registratori dell'americana Ampex e il 12 maggio inizia a trasmettere lo show di Crosby direttamente da quei nastri. Rispetto alle lacche a 78 giri, il nastro Ampex, ora ad un quarto di pollice ed in materiale plastico, ha evidenti vantaggi dettagliatamente elencati nella rivista. Qui ricordo i principali. Il nastro permette un facile editing con una semplice operazione di taglio ed incollaggio. Con la sua velocità costante, il nastro ha una qualità di riproduzione omogenea lungo tutta la trasmissione. Il livello di rumore e la distorsione armonica sono di gran lunga ridotti e si può ottenere un range di frequenze esteso tra i 50 Hz e i 15 MHz. Un singolo nastro può essere registrato e riprodotto più volte senza un significativo degrado della qualità. Infine, grazie alla separazione delle testine di riproduzione da quelle di registrazione, è possibile monitorare costantemente quanto si sta incidendo sul nastro. Quello che manca ancora in questi primordi della registrazione ad alta fedeltà è uno standard di riferimento, che fissi per esempio la velocità di scorrimento del nastro in riproduzione e i suoi pollici, oppure che ne definisca le specifiche di base come quelle delle apparecchiature di riproduzione e registrazione. Si pensi ad esempio quanto sia importante per fini professionali un adeguato scorrimento veloce del nastro nelle due direzioni avanti e indietro. Almeno su questo aspetto il disco aveva ancora un sicuro vantaggio, oltre a quello della intercambiabilità fra gli utenti, del tutto assente per il giovane nastro prodotto dalla The Minnesota Mining and Manufacturing Company, la futura 3M, ancora solo soletto sul mercato. Dallo studio di registrazione infine le necessità di trasmissione si spostavano sul campo e la disponibilità di registratori portatili diventava un'esigenza non semplice da realizzare. Se le bobine a nastro sono leggere, non lo erano altrettanto i motori, che richiedevano anche un'adeguata corrente di alimentazione per poter operare. Avendo citato i dischi, mi ricollego alla seconda importante notizia che si leggeva tra le pagine della rivista e che riguarda, come anticipavo, il lancio da parte della Columbia di un nuovo tipo di disco in vinile a 33 giri e un terzo, dedicato all'ascolto domestico. La Columbia lo aveva presentato appena un mese prima davanti ad una platea di scettici, immediatamente ricredutisi. La leggenda racconta di un discorso di presentazione da parte dell'allora presidente della Casa Discografica Americana, Ted Wallerstein, lungo 24 minuti precisi, esattamente quanto la durata di una delle due facciate dell'LP che Wallerstein ha avviato, un attimo prima di parlare, e che resta in sottofondo per tutto il tempo in cui accompagna le sue parole. Il disco termina precisamente nello stesso momento in cui Wallerstein conclude il suo discorso. 24 minuti e Wallerstein non si è mai allontanato dal microfono per girare il disco. La sala esclode in un fragoroso applauso. Senza ancora la disponibilità dei dettagli tecnici o dell'annunciato catalogo delle prime 100 pubblicazioni, in realtà consultabili in anteprima, già dal numero del 3 luglio del settimanale Billboard, l'articolo riferisce che i nuovi dischi da 10 e 12 pollici potevano ospitare sulle due facciate da 35 a 45 minuti, grazie a solchi più piccoli, leggibili però da un nuovo pick-up dallo stilo più stretto, già noto come microgroove. In contemporanea l'uscita dei primi vinili, la partnership con l'americana Filco avrebbe permesso di distribuire un nuovo giradischi dotato di questa speciale puntina a soli 29,95 dollari. I dischi invece, capaci ora di ospitare un'intera sinfonia sulle due facciate, sarebbero costati meno di 5 dollari ciascuno, un prezzo assolutamente concorrenziale rispetto alle numerose facciate a 78 giri, necessarie per ospitare la stessa sinfonia. Il collezionista ne avrebbe guadagnato non solo in qualità ed economicità, ma anche in praticità e in spazio di archiviazione, con un disco molto più sottile rispetto ai volumi di raccolta dei 78 giri. In questo 1948, grazie al nastro magnetico in materiale plastico, la registrazione professionale compiva un incredibile avanzamento qualitativo, che vedremo porterà i suoi frutti anche in ambito domestico, non solo nella registrazione e nella riproduzione audio, ma anche, incredibilmente, in quella video. Parallellamente, l'arrivo sul mercato di dischi infrangibili di lunga durata avrebbe accresciuto in modo esponenziale la fruizione della buona musica in ambito domestico, facendo nascere e sviluppare l'industria dell'alta fedeltà ed una nuova figura di appassionato, l'audiofilo. La storia dell'alta fedeltà continua nel prossimo video. Se questo primo video vi è piaciuto, potete lasciare un commento, regalarmi un like o iscrivervi al canale, attivando la campanellina per ricevere la notifica di pubblicazione del secondo capitolo. Ciao e grazie da Federico di Seconda Vita.